www.fipili.com Sulla statale Trebis, Tiberina chiusi per lavori in direzione Ravenna, gli svincoli di Sansepolcro Sud e Val Savignone. Fino alle 21 di stasera sciopero indetto dai Cobas. Per quanto riguarda la tramvia, la prossima fascia garantita è tra le 17 e le 20. I treni regionali potrebbero subire variazioni, cancellazioni e ritardi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!